Ennesimo grave incidente in uno degli incroci più tormentati di tutta Fano, quello di via Campanella con via Galilei, teatro assieme a quello esattamente simile di via dell'aeroporto con via Papiria. Tutti e due, oltre che ad essere uguali, sono stati teatro di numerosi disastrosi e gravi incidenti. Questa volta poteva andare peggio ma comunque due persone sono finite all'ospedale in gravi condizioni, domenica mattina, attorno alle 10.30 in via Campanella, a pochi metri dal Codma, una delle quali, un fanese di 50 anni a bordo di un furgone per estrarla dalle lamiere accartocciate, ci sono voluti i vigili del fuoco di Fano a corsi sul posto in brevissimo tempo. Agli occhi dei soccorritori però si è presentata una scena raccapricciante e in un primo momento molto più grave di quanto poi si è rivelata. Sul posto anche due ambulanze del 118 che una volta estratti i due uomini dai mezzi li hanno trasportati in codice rosso al Santa Croce di Fano. Sull'esatta dinamica dell'incidente sono in corso le valutazioni della polizia locale di Fano giunta sul posto per i rilievi diritto e per gestire anche la viabilità ma sembrerebbe da una prima analisi essere una mancata precedenza da parte della Nissan proveniente da via Galilei che non avrebbe osservato lo stop la causa dell'incidente. Sia in questo punto che in quello delle via dell'aeroporto le dinamiche degli incidenti sono sempre le medesime difficoltà nelle valutazioni e nel districarsi da parte di alcuni autoboluministi nel dedalo di corsie tra le aiuole di questi due svincoli pericolosissimi di Fano.